Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in Toscana in questi minuti. In A1 permangono rallentamenti verso nord tra Calenzano e via 1 variante, in A11 coda per viabilità esterna che non riceve tra via 11 Firenze Nord e Firenze Peretola verso Firenze. Stessa situazione in Fipili tra Ginestra e Firenze Scandici. Siamo al traffico ferroviario per circolazione perturbata sulla linea il treno 4101 Firenze Orte sta viaggiando con 21 minuti di ritardo. Prima di salutarci per la cantieristica regionale sul raccordo Siena-Firenze per lavori di risanamento dei cavalcavia fino al 21 giugno, chiusure notturne verso Siena tra San Casciano Nord e San Casciano Sud in orario 21.6 deviazioni sulla SR2 Cassia. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con regione Toscana, città meropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!